svelata la cena eduardo carmen alessandro e nicolas di nuovo assieme mangiano m mens e 3 metri di pizza si capisce ma già ho annunciato una cena ferma ferma questo me li tolgo dopo i luci di gallina di gallina allora allora sto aspettando alessandro che è in doccia io non ho parole poi dicono che le femmine e gli uomini mi tocca aspettare ancora alessà ti sbrighi sempre tardi l'appuntamento è alle 9 ci vuole mezz'ora per arrivare alessà che brutta luce non è cambiato la mazza ne è cambiato perché comunque si è rimasta così il problema è la luce il problema è la mia stessa scusa quanto mi sono rimasta ciao un bacetto ciao un bacetto buonasera non devo fare amico las voleva fare una cosa eroica ma chi sarà questa donna chi sarà questa donna che ha mamma mia pure quando me lascia in pace ma perché ti sei messa due ascelle solo a posto delle scarpe non ho capito ma sono carino non sono commestibili carmen non li mangiare no ferma no non li mangio non li mangio però sono belle guarda sono bellissima mi ricordano lennie kremitz sei veramente fantastica sei molto sexy veramente carmen mettiamo una voce sexy tararara una voce io posso metterti la voce sexy a canzone vuoi la canzoncina la situazione la canzoncina una canzone si chiama eccetera la situazione eccetera la canzoncina e voi te la metto bellissima da me 3 metri 3 metri 3 metri 3 metri 3 metri 3 metri sopra il cielo come il film che ha fatto nicolas prima di perdere i capelli non è la prima di sopra il cielo lo so è la prima pizza che ti mangi un'ora eh l'ha aspettato apposta strumenti strumenti posso dire che non mi siete mancati per niente mancatevi buccio calore no l'avete capito in un certo ora ho visto nicolas entrare ho visto dei vestiti che svolazzavano questo niente ha detto c'era nicolas ma per un attimo me ne so cotto dai non ti levati che ci vado io a te piacciono le mie scarpe ma la verità sembra una scella che ti sei messa sui piedi vieni tu me ne vado io vieni su vieni i pezzi dei cocco che ti sono rimasti nel reggiseno poi ne mangio quelli e poi ne passaggia quelli ma dammelo a me scusa dammelo no ah nicolas se me lo vuoi dare o no e basta le mangiate basta vengono solo a mangiare loro e danno la colpa a me qual è fammi vedere eduardo scusami abbi pazienza la mia pizza qual è tu hai il riso perché questo non è dentro la prova ricompensa non sei leader questa sera non ti mangi la pizza ma io lo voglio nicolas io voglio la pizza scusa abbi pazienza non mangi ci guardi no io non voglio guardare ma mi dispiace almeno che mi dice la capitale di lussemburgo qual è ragazzi aspetta lussemburgo luxury esatto allora ho finito dai allora mangio ok tutti molto simpatici e con molta fame 3 metri di pizza moltiplicato per 4 buon appetito e buona serata buon appetito e buona serata buon appetito e buona serata Grazie.